Musica Questa poesia che io ho scelto è una poesia difficile perché se voi vi cimentate poi a leggerla mi darete ragione perché ci sono e questo è un sistema per capire se effettivamente un sacco parla, un dialetto parla, si è come quando facciamo la scioglilingua, sapete quella scioglilingua carina che noi diciamo a Bari? Due pitte, sopra tre pitte, tenevano un petto a mani, cinque quattro pitte e ce lo vò un petto, salzò due pitte, tenevano tre pitte, quattro pitte e ce lo vò un petto, quattro pitte e ce lo vò un petto, quattro pitte riuscì a tre pitte. E due pitte era l'uomo che stava seduto sopra un tre pitte, uno scabello, e tenevano un petto a mani, si stava mangiando un piede di porco, cinque quattro pitte, un cane, e ce lo vò un petto, salzò due pitte, l'uomo, perché un tre pitte, c'uomo non ha quattro pitte, e ce lo vò un petto, e quattro pitte, c'è tre pitte, ma ce lo vò un petto. Va bene, questa è, io l'ho ritenuta, almeno mi ha suscitato un particolare sentimento. Mamma, dimmi, dici, che l'ho riuscì a uscire? Crescita salute, sapete, quando volessi a chiamandare chi sei? Vecchie, ma raccoglio, quando portavo a mani a mani, sopra un romano, sento ancora in dalle vecchie, usè, con lei, io ci sono tant'alago, e io che non potevo fare nient'altro, la chiamandava che legge tu. A mani a mani, già, proprio come a me, che ha tanti vinti anni. Usè, ti voglio dire che è lo stesso che mi dite, di che cosa, perché almeno, l'amore del cuore che tu mi dite ogni giorno, non serve a vedere quella ora, ma a vasto quella ora. Grazie. 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 Grazie.